Un quarto di lotta alla pari e poi Napoli travolge Pesaro. A coach Sacchetti non riesce il miracolo alla prima sulla panchina della VL. La Gevi Napoli, che viaggia con media al tiro impressionanti, rende impietoso l'attuale paragone di valori con la Carpegna Prosciutto Basket e alla Sirena il tabellone sentenza 93 a 75. Sconfitta netta per Tambone Compagni, VL che resta terz'ultima e tifoseria Bianco-Rossa che continua a contestare la società a colpi di striscioni in mostra al ritorno da Napoli. Basket che intanto regala un sorriso in Serie B con l'Ital Service Loreto che vince a Pescara 63 a 70. Nel calcio vittoria rigenerante per la Vispesaro che ha ragione dello scontro diretto di Olbia chiamandosi fuori dalla zona play-out. Subito assegno il nuovo acquisto Nicastro che mette a referto il gol partita nel cuore del primo tempo capitalizzando con una girata un'azione nata su sviluppo di rimessa laterale. In Serie Diva invece in scena un surreale derby fra Fane e Fossombrone, 0-0 in campo e 0 ultra sugli spalti con il tifo fanese a contestare la società per il caro Biglietti. Nel calcio a 5 l'Ital Service Pesaro inaugura il girone di ritorno con un 2-2 di carattere in casa della L84 Torino. Priva di Murillo Schiochette, Miguel N dell'ultimo acquisto 1 franc, Pesaro va sotto 2-0 nel primo tempo ma rimonta con tenace nella ripresa grazie alle reti di Moabz e Vavà. Nel volley altra vittoria pesante per la Megavox Vallefoglia che supera in 4-7 una Corea Ciacunio e raggiunge il sesto posto in classifica superando Pinerolo alla quale andrà a far visita sabato per un confronto diretto che vale doppio in chiave playoff. Playoff che intanto la Megavox difende con sei punti di distanza dal nono posto. Nel rugby ossigeno in lotta a salvezza per la Fiorini Pesaro che inaugura il suo 2024 vincendo in trasferta in casa del Valpolicella con un 28-26 che vale 4 punti in classifica.